Il messaggio è che i nostri concittadini di fede musulmana, che sono oramai molti, sono molti milioni di europei e cresceranno, vogliono convivere con gli altri. La grande maggioranza di questi nostri concittadini sono parte della civiltà europea, condividono i valori fondamentali su cui si basa la nostra cultura, la nostra convivenza, le nostre istituzioni e sono pronti a discutere con i rappresentanti delle altre religioni, con i rappresentanti politici, con gli intellettuali. Questo è stato lo spirito di questo incontro. Direi che forse c'è stato un momento riassuntivo, quando alla fine del dibattito il vescovo, il nunzio apostolico, l'imamma e il rabbino hanno voluto farsi una fotografia insieme. Il rischio maggiore è che questa Europa, dove ci sono molti popoli, molte religioni, molte radici etniche diverse, diventi un'Europa di comunità chiusa in se stesse, che non comunicano tra di loro. Poi c'è una difficoltà in più con il mondo islamico, che non esistendo una chiesa, non c'è un Islam europeo, c'è una frammentazione di comunità che spesso sono legate ai paesi d'origine. Quindi è un dialogo non facile da organizzare e da strutturare, ma bisogna farlo. Noi abbiamo fatto uno sforzo per raccogliere un po', non dico tutti i rappresentanti, ma insomma una selezione significativa e vogliamo continuare questo lavoro. Il limite della libertà di espressione è stabilito dalla legge, insomma, nel senso che il limite è quello che non si possono diffamare, calunniare gli altri. E poi c'è una forma di autocontrollo che è legata ad un'etica professionale, che non può essere imposta per legge, insomma, è una materia nella quale è molto delicato intervenire con la forza della legge. C'è una falla nella politica di integrazione, qui parliamo non dell'immigrato che arriva, parliamo di europei di seconda e di terza generazione, che evidentemente si sentono messi ai margini della società europea, come se noi avessimo voluto sfruttare i loro padri per il benestere dell'Europa e adesso rifiutassimo i figli, diciamo. Questo è un problema serio, diciamo, è un problema che ha a che fare anche con la politica, ha a che fare con il modo in cui la politica lotta contro ogni forma di segregazione, contro la marginalità sociale di certi quartieri, di certi ambienti e offre una prospettiva a tutti i giovani. Una persona che si integra, che viene riconosciuta nella sua dignità, nei suoi diritti individuali, eccetera, è una persona che è meno propensa a delinquere di chi viene costretto alla clandestinità e alla marginalità. Quindi è evidente che gli investimenti sulla giustizia sociale e sull'integrazione sono investimenti per la sicurezza. Grazie a tutti.